Andiamo dentro da... Oh, facciamo un documentario. Sulla casa della donna dell'autorizia. Ma cos'è che cosa sta leggendo? Eh, ma secondo me non è vero. Ma è una canzone. Dai. Cioè, secondo me è una cavolata. Ah, sai che è la parola. Aiuto, che paura. Potrebbe essere una finta. Dai, io provo io. Questa cosa che cos'è? Un triciclo per i bambini. Oh, Greg, mi fai paura. Perché? Perché io devo essere una pillo. Oh. Tu lì che te ne... Va. Aiuto, è rimasto il sale. Ma chi è che è Grigio? Siamo io per la tavola. Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Eh, 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 eh!